Siamo all'Accademia del Ghiaccio di San Donato milanese con Anna Cappellini e Luca Lanotte, campioni mondiali 2014 di pattinaggio artistico su ghiaccio, e Elisaveta Tutmisceva, campionessa del mondo 2015. Anna e Luca, vi allenate spesso qua a San Donato, è la vostra base? Assolutamente, è la nostra base e ci alleniamo per tutto quello che dobbiamo preparare, questa è la nostra casa e ci troviamo benissimo. Ecco, cosa state preparando in questo momento? In questo momento stiamo lavorando appunto con Elisaveta per le sue coreografie per la prossima stagione e noi ci stiamo preparando per il nostro show. Ecco, Elisaveta, è la prima volta che ti alleni qua a San Donato? Esatto, perciò io vengo a questa stagione. Sì. Vieni spesso in Italia, ti capito spesso a allenarti con Italia, a fare spettacoli? Sì, ma grazie a Italia e se ti piace. Sì, è molto, mi piace. Sarei impegnatissima sicuramente, settimana prossima dove sarai? Sì, grazie mille. 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 Grazie mille.